Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale a seduta del primo luglio 2019. Nel primo ordine del giorno, iniziamo a fello. Allora, Narcisi, Ulissi, Esposto, Dori, Schiavi, Gagliardi, De Angelis, Peliccioni, Neroi, Caglioni, Leonetti, Pierantozzi, Mascetti, tutti presenti. Bene, dobbiamo decidere gli scultatori. Allora, per quanto riguarda la maggioranza... Invece, per quanto riguarda la maggioranza, facciamo... Chi vuole farlo? 10. Di nuovo ordine del giorno, numero 1, comunicazione del sindaco. Dovamo parola al sindaco, Sisi. Allora, buonasera. Buonasera, buonasera ai consiglieri, buonasera al Presidente, buonasera ai cittadini presenti. Quest'oggi abbiamo voluto iniziare questo Consiglio Comunale con un piccolo momento, tra virgolette, celebrativo. Per dare spazio a chi in questi mesi si è dato da fare per la nostra comunità. Questo è un po' un'abitudine che vorremmo prendere per dare spazio, per dare voce, per dare anche visibilità a chi sul territorio si impegna quotidianamente, magari anche nel silenzio, nell'ombra, facendo dei servizi che sono comunque importanti. Loro abbiamo detto in campagna elettorale quanto per noi è importante il volontariato, quanto per noi è importante la collaborazione con le associazioni per rilanciare questa nostra comunità, per creare un senso civico forte nei cittadini. Allora abbiamo voluto iniziare proprio oggi, primo luglio, ieri 30 giugno, si è chiuso ufficialmente l'anno scolastico 2018-2019 e quest'anno scolastico è stato caratterizzato da un nuovo servizio per quanto riguarda il nostro Comune. Un servizio fortemente voluto dall'amministrazione Caioni e che è stato realizzato dal commissario con una convenzione stipulata lo scorso gennaio, una convenzione fatta tra il Comune e un'associazione che sta diventando una bella realtà del nostro territorio. è nata poco meno di due anni fa, ma che sta crescendo con dei numeri importanti, ho avuto modo di incontrare tanti associati nell'ultimo evento che hanno organizzato qualche settimana fa, sto parlando ovviamente dell'associazione Radici Solidari. Una realtà, dicevo, abbastanza recente sul nostro territorio ma che già sta facendo dei numeri importanti sia dal punto di vista degli associati e della partecipazione, ma anche e soprattutto per le tante attività che vengono promosse. Quindi si è chiusa la prima parte delle attività che riguardano il periodo gennaio-giugno, adesso si aprirà con tutta una serie di eventi che riguarderanno la seconda parte dell'anno, quindi luglio fino a dicembre. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente che è presente questa sera, Enrico, per tutto il lavoro che sta facendo in collaborazione con l'Auser, proprio con la sua associazione. Allora dicevo, questa sera, il giorno dopo la chiusura dell'anno scolastico abbiamo voluto invitare in maniera ufficiale sia i tre volontari che hanno dato il via con il loro servizio al servizio di nonno vigile e sia il volontario che si occupa della custodia e della cura del patto della stazione. Perché comunque ci sembra giusto, come dicevo all'inizio, valorizzare quelle persone che mettono a disposizione il loro tempo, togliendolo ai propri effetti, alla famiglia, al lavoro, agli hobby comunque in questo caso, per dedicarsi agli altri. In particolare parlo del servizio nonno vigile per dedicarsi ai primi, ai ragazzi, diventando anche un esempio importante. Allora adesso chiamerò una ad una, abbiamo preparato un piccolo riconoscimento, un piccolo attestato che è niente rispetto al servizio che è stato fatto, però ci tenevamo a mettere un piccolo segno per ringraziare queste persone, questi volontari per il servizio che hanno fatto. Perché in particolare, per quanto riguarda il nonno vigile, si è dato il via ad un servizio davvero importante che sicuramente porteremo avanti nel corso del nostro mandato amministrativo. E quindi allora chiamerei uno a uno e il Presidente del Consiglio premierà con il riconoscimento, iniziando da Benedetto Bassetti. Davvero grazie e leggo la motivazione che vale per te e per gli altri due nonni vigili, perché con il tuo impegno e la tua disponibilità hai contribuito ad avviare un nuovo utile servizio alla cittadinanza, diventando presenza importante ed esempio positivo per i più piccoli e per tutta la nostra comunità. Grazie Benedetto. Remo Cardinale Grazie Milare Ci vediamo, grazie Ciao Luigi Firovanti Grazie 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 a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Se tutto questo fosse vero, si chiede chi ha autorizzato questa procedura impropria, nome e cognome delle responsabili, e si rifiuta comunque del continuare con questo detrabile andazzo, ritenendo responsabile di questa amministrazione per ogni e qualsiasi danno che se ne potrà derivare per solo mezzo. Comunque, per qualsiasi danno, anche di tipo economico, possa essere cagionata la stessa amministrazione, dalla federale di proprio o i legali, anzi detto del mezzo. Grazie a tutti. 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 ¿Posso rispondere? Può rispondere, però Luzia Polisso? Assolutamente, siccome viene attribuita anche a me questa responsabilità e io la rimando immediatamente a mittente in quanto io in quanto responsabile, anzi in quanto assessore ai servizi sociali per pochissimi mesi dopo le dimissioni dell'allora assessore Narcisi me ne stavo occupando in prima persona di regolarizzare questa situazione insieme con l'aiuto del segretario comunale ma sono stato ai miei commissariato per cui non mi è stato possibile portare a termine quello che era una cosa che il terreno è importante fare. Ecco quindi per quanto riguarda le responsabilità di chi ha dato a oggi incarico a questi volontari io se mi consente me ne tiro completamente fuori, invece ravvedo una grossa responsabilità nei quattro anni di assessorato da parte dell'attuale sindaco. Solo una replica brevissima, Presidente se posso, per dire, a parte questo ping pong è stucchevole, ma è giusto per precisare che io non l'ho chiamata in causa in qualità di assessore ma come sindaco perché comunque lei conosceva la situazione e come chi l'ha preceduta e come chi è venuto dopo ha comunque avallato certe situazioni. Quindi se c'è una responsabilità è sicuramente in punto di vista perché lei in qualsiasi momento aveva il potere di intervenire e di richiamare chi sotto di lei stava gestendo a suo avviso male la situazione. Quindi questo è quello che ci tenevo a dire. Va bene. Smetto, non lo reprico per evitare la stucchevolezza. Andiamo avanti. Grazie. 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 Grazie a te. Grazie a tutti. Grazie a tutti